buongiorno a tutti siamo a riccione campionati italiani assoluti open di novembre prima giornata è a depur bar e siamo tornati nella nostra sede dei campionati che proprio il bar di riccione che ci ospita e abbiamo come ospite un atleta della nazionale italiana un atleta ormai veterano nonostante la sua giovane età della nazionale è con noi lorenzo zazzeri benvenuto grazie grazie un saluto anche a chi ci guarda gli spettatori e siamo qui insomma a parlare naturalmente di di nuoto di un grande campione è un campionato italiano assoluto di vasca lunga è un campionato non anomalo ma sicuramente che è inserito in un progetto della federazione italiana nuoto per quest'anno che è un anno olimpico un anno particolare la prossima settimana la nazionale parte per i campionati europei di vasca corta di otto peni nella romania poi abbiamo i campionati del mondo di doha e club della stagione abbiamo le olimpiadi di parigi di agosto lorenzo sono un percorso importante il tuo tu sei uno di quelli che è partito subito alla grande al nico sappio a metà novembre hai fatto un centro stile libero che la quarta prestazione stagionale di vasca corta un 46 e 69 che anche vicino al tuo personale insomma e la tua è una storia di un grande campione che ci è sempre piaciuto raccontare però di un campione che ha avuto un momento di grossa difficoltà fisica che stai superando alla grande ci vuoi raccontare un attimo il tuo percorso di questi ultimi due anni se volentieri allora partendo dal mio sapio ci tenevo a a fare un inizio di stagione molto buono e competitivo perché io comunque mi trovo bene anche in vasca corta non solo in vasca lunga quindi ci tengo la nostra nazionale forte e competitiva anche in vasca corta e quindi anche proprio a livello morale volevo trovare subito delle conferme da me stesso e quindi la stagione è iniziata il 28 agosto nonostante io durante tutta l'estate abbia continuato a fare palestra quindi a tenermi in esercizio fisico e quindi abbiamo iniziato già da subito a fare molta qualità molta qualità perché come ricordato adesso la stagione è ricca di impegni cioè una grande competizione mediamente ogni quattro mesi e quindi volevamo andare bene fin da subito e pare ci sia anche un europeo di lunga però insomma ancora era curioso e quindi non abbiamo perso tempo abbiamo lavorato subito molto sulla tecnica su ritmi di gara partenze ho inserito anche una palestra in più all'interno della settimana specifica proprio per quelle che sono le mie caratteristiche perché appunto venendo da una stagione passata fatta a metà per forza per causa di forza maggiore ci tenevo a non perdere tempo a partire subito forte perdone parliamo un attimo di questo aspetto quest'ultimo aspetto che hai giustamente sottolineato una stagione era quella passata fatta a metà tu hai avuto dopo gli europei di roma è un momento in cui c'è stato un black out uno shock anafilattico ci raccontavi esatto racconta un attimo che cosa è successo tra l'altro era il primo giorno di vacanza in sardegna la prima sera era andata a cena con questo mio amico e si vede ho reagito a un alimento particolare della tradizione sarda perché avevo ma era gli antipasti quindi avevo anche mangiato poco e mi sono sentito male sono svenuto ho avuto poi questo shock anafilattico e sono stato stoppato perché c'erano dei valori nel sangue che indicavano un possibile stress cardiaco da questo evento quindi sono partiti tutti gli accertamenti per indagare meglio l'accaduto fortunatamente è andato tutto bene il cuore è sano non ho parliamo di settembre 2020 io appena tornato dalle vacanze sono andato al coni a fare la medicina dello sport a fare tutti gli accertamenti poi sono stato ricoverato una settimana a fine ottobre per velocizzare proprio l'iter perché si prospettava un tempo di rientro in acqua molto lungo perché c'erano tanti esami da fare non si capiva bene inquadrare la filiera saltata l'idoneità diciamo era saltata l'idoneità per forza di cose quindi io a un certo palà il primo mese stavo molto duro da affrontare perché non sapevi nemmeno cioè nemmeno i dottori sapevano dirmi precisamente qualcosa ed ero molto giù poi mi sono rimboccato un po le mani che ho colto l'occasione di avere più tempo libero per iscrivermi all'accademia di belle arti che sto ancora un aspetto che vorrei parlare infatti frequentando proprio perché volevo perlomeno da una situazione difficile tirare fuori qualcosa di positivo no quindi mi sono buttato a capofitto sull'altra mia passione dell'arte e quello mi ha aiutato tanto a rimanere sereno poi comunque ogni tanto ogni due settimane andava a trovare i ragazzi all'allenamento parlavi contattivo esatto cioè mi mancava proprio la mia routine d'atleta e l'odore del cloro esatto e poi piano piano grazie anche al sostegno del centro sportivo olimpico dell'esercito e non finirò mai di ringraziare perché insomma a livello logistico formidabili mi hanno sempre assistito mi accompagnavano a fare le visite mi davano spazio e tempo per insomma parlare con chi di dovere dormire nelle loro strutture quindi è stato un sostegno fondamentale anche da un punto di vista proprio logistico logistico e della mia serenità mentale perché comunque all'interno del nostro gruppo ci sono tanti professionisti e mi hanno aiutato gradualmente non mi hanno mai messo fretta che mi hanno sempre messo nell'ottia non è nulla da dimostrare sappiamo cosa vale ora l'importante è rimettersi in salute da qui a parigi e alla fine è sempre stato quello il mio obiettivo c'è tempo quindi cerca di rimanere sereno così ho fatto e sono rientrato in acqua al diciannove gennaio caspita mi precisa stagione proprio già inoltrata esatto non solo rientrato in acqua proprio primo peso alzato perché non potevo proprio fare sforzi fisici quindi quindi immagino anche in condizioni fisiche da ricostruire dimagrito tanto avevo perso 6 7 kg di massa muscolare avevo perso tutti i condizionamenti di resistenza certo certo tutti gli aspetti dell'allenamento infatti un altro punto critico superato i primi mesi di stop è stato il rientro perché sono rientrato e in palestra alzavo i pesi delle ragazze in acqua non riuscivo cioè veramente tenevo dei passi molto blandi come è giusto che sia per una ripresa tutto un riadattamento c'era esatto quindi è stato difficile anche avere pazienza perché sono sempre stato uno e vuole sempre cercare superare i suoi limiti ogni giorno e non poterlo fare dover dare il tempo al mio fisico di riadattarsi è stato difficile proprio frenare questa mia indole mentale no certo sì anche perché sono abituato a certi ritmi non solo di allenamento ma di risultati nonché io dopo una settimana di ripresa in cui nuotavo blando mi è venuta la febbre perché si vede proprio riesco che deve resale ho reagito allo stress fisico improvviso quindi stiamo parlando di 16 mesi fa da 17 mesi fa l'inizio di tutto nemmeno settembre settembre ottobre 14 mesi fa iniziato tutto ho ripreso a notare a gennaio quindi dieci mesi certo gennaio 2023 quindi si dieci mesi e sa ben recupero complimenti insomma sì allora io quando sono rientrato avevo comunque l'obiettivo di provare a qualificarmi per i mondiali vasca lunga a certo non era facile perché avevo quattro mesi di tempo alla fine io avevo come obiettivo il sette colli come qualità italiani sono andati oltre le aspettative perché comunque un bronzo nei 50 un quinto posto nei cento comunque sei rientrato nel mucchio diciamo due mesi di allenamento alla fine quindi prende nulla e ha dato grossa fiducia e ho ripreso a nuotare in maniera serena fiducioso proprio del lavoro che stavamo svolgendo con il sostegno e la tranquillità anche da parte della federazione anche questo devo ringraziare perché avere una federazione comunque credente non ti non ti fa sentire l'ansia di avere fretta sulle spalle è stato di gru di grosso aiuto e quindi poi siamo arrivati al sette colli ho fatto dei buoni tempi ancora lontani dai miei personali però comunque dei tempi dei segnali importanti segnali importanti e arrivati a fukuoka come ho detto anche in altre sedi in altre interviste la medaglia nella staffetta è stata veramente una chiusura di un periodo buio difficile diciamo che ha sancito la fine del sì e che ora sinceramente mi ricordo mio babbo prima di partire era già felicissimo della mia qualificazione disse ma nella staffetta cosa perché dovete difendere roba importante e trova babbo quest'anno secondo me se va bene del mondo usciti esatto se va bene 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 arriviamo terzi però siamo più da quarto posto quest'anno vedendo un po tutto no la mia condizione fisica non al meglio gli altri ragazzi e fino a quel momento non aveva non erano andati così però è stato un anno particolare però quando siamo arrivati li abbiamo trovato una grande unione di gruppo io ero molto motivato perché comunque uscire da un periodo difficile si dà forza interiore no quindi ero molto motivato ho cercato di trasmettere questa motivazione anche agli altri miei compagni durante le riunioni tecniche che facevamo in giappone è venuto fuori una grande gara e per poco vincevamo sì infatti è stata un secondo posto quasi da rammarico più che da soddisfazione senza levare niente esatto ma a me poi è dispiaciuto non essere riuscito a notare un tempo per me medio perché potevamo vincere oggettivamente però guardando che è una croce che non ti puoi prendere tu guardando poi tutto nel complesso meglio di così io lì non potevo fare ho notato anche il 50 qualche giorno dopo conferma e la mia condizione non era decente per un campo hai vissuto una situazione mentale forse simile al copi diciamo che quando ti levano qualcosa di bello a cui però sei abituato ti accorgi quanto è bello esatto infatti faceci un post scritta una frase del genere perché molto spesso noi diamo tanto per scontato la nostra vita l'essere riuscito a fare della nostra passione del nostro sport un lavoro comunque sei in vista puoi trasmettere dei messaggi più giovani quindi sono tutti i privilegi questi che quando non non hai o ti vengono tolte per causa di forze maggiore e ne rende ancora il messaggio è bello che quando andate su un podio è un bellissimo messaggio per i giovani nuotatori e giovani in assoluti ma anche quando recuperi e hai la capacità di renderti conto anche che c'è tutto un mondo attorno a te che si è stretto mi parli dell'esercito e parli della federazione conosco la tua società i tuoi amici stretti tra l'altro protagonisti di un at pool bar dell'anno scorso molto simpatico quindi sai il tuo allenatore paolo persona meravigliosa quindi probabilmente ti rende conto dei valori al di là dei risultati che cosa vogliono dire quando uno semina e poi c'è una solidità ritorniamo a quest'anno quindi dicevamo nico sapio qualificazione per gli europei di corta e però l'hai detto e anche abbastanza chiare note l'obiettivo parigi non la vacanza insomma esatto vivo questa stagione che io ho il pensiero di parigi già da gennaio dell'anno scorso quando mi sono rituffato in acqua chiaro quindi è da oltre un anno e mezzo e vivo questa stagione come se fosse un po il culmine della mia carriera perché mi sento bene fisicamente sono maturo da un punto di vista mentale secondo me il gruppo solido della nazionale le colonne portanti hanno tutti l'età della piena maturità agonistica e quindi sia da un punto di vista personale e individuale sia da un punto di vista di squadra quindi per le staffette vedo parigi come se fosse l'olimpiadi in cui veramente possiamo esprimere il massimo di questa nazionale poi non che in futuro anche perché siete vice campioni olimpici uscite una medaglia d'argento da difendere che non è facile ma si però poi questa comandata fu che l'argento è stato un rammarico alla fine siamo lì siamo lì e ci giochiamo le nostre carte perché poi abbiamo visto all'olimpiadi scorsa di parigi che tutto può succedere all'olimpiadi c'è una magia diversa quelle di tokyo dici che esatto c'è una magia diversa noi siamo un gruppo solido ci conosciamo tutti da anni siamo amici quindi i giovani che spingono devono aspettare ancora un attimino ovviamente se esce qualcuno di molto veloce lo accoglieremo a braccia aperte però mi sono reso conto e entra essere anche solo parte di una staffetta così prestigiosa e che negli ultimi anni ha portato 70 medaglie è difficile come è normale che sia perché per arrivare a vincere medaglie olimpiche c'è bisogno di tutti e quattro siano nuotatori di primo livello quindi però io fossi un giovane avrei molta ambizione perché comunque è una staffetta entreresti in un elite tale da cui c'è qualcosa da giocarti esatto senti una cosa e questi assoluti sono anche di qualificazione perché ci sono i tempi previsti dalla federazione nuoto per i mondiali di doha e ci punti ci provi è un una distrazione cioè come la vedi no no io sono venuto qui determinato e voglioso e volenteroso di provare a strappare il massimo poi c'è lo scalino un pochino sotto c'è il mondiale di doha e cercheremo di di riuscire comunque a a guadagnarci qualcosa e questa qualificazione io comunque non ho fretta sono consapevole e io proprio anche a livello fisico e di assorbimento dei carichi di lavoro mi esprimo bene nei mesi estivi quindi quando proprio conta cioè io tutti i miei personali in carriera li ho notati da giugno in poi in giugno e luglio agosto sono bisogno proprio di una di un'azione importante esatto quindi io non ho fretta i tempi in allenamento per ora sono buoni sono stati buoni con segnali incoraggianti però non ho questa estrema ansia di dovermi qualificare a tutti i posti e l'intelligenza di non non ti senti un fallimento se non ottieni subito risultato anche perché io ho sempre vissuto memory anche della scorsa stagione il tutto come un processo quindi anche le difficoltà magari la gara e non va bene o che non va come vorrei leggerla adesso a leggi continui a testa bassa allenarti e con altri due o tre mesi di allenamento non ci dovrebbero essere problemi cento stile libero e basta come mira come anche 50 anche 5 io tengo molto anche 50 che sono la gara e a livello individuale per adesso mi ha regalato più soddisfazioni non so la medaglia in vascaporta gli scorsi europei finale olimpia finale mondiale europea quindi una gara a cui tengo io ho una velocità di base proprio di natura molto alta caratteristica esatto e però gli allenamenti non ti nascondo che sono strutturati bene per i cento perché comunque 100 soprattutto nell'anno olimpico è una gara che vale doppio caffetta e gara individuale però cerco comunque di non sacrificare quelle che sono le mie caratteristiche e di adattare le mie caratteristiche alla doppia distanza che comunque mi viene mi viene bene in realtà il prossimo impegno è domani dopo domani gli assoluti in che gare ti esibisci 50 e 100 stile faccio le mie concentrato su dire proprio vai diretto all'obiettivo poi europei di vasca corta come come li affronterai questi europei come un prolungamento di questa settimana di gare quindi in questa settimana rompiamo il ghiaccio non in un test importante che vale appunto le qualifiche internazionali però per il lavoro che abbiamo svolto credo credo e spero che queste gare mi servano anche proprio come allenamento e adattamento per la prossima settimana come vivile il passaggio corta lunga corta adesso qualche lunga poi autopeni corta poi probabilmente molto stimolante molto solante io a genova ho gareggiato era due anni che non toccavo la vasca corta nemmeno in allenamento perché noi a firenze ci alleniamo tutto l'anno in vasca lunga e l'ho sentito mi mancava un po di reattività nella caviglia un po di cambi di ritmo di direzione però ho notato che gara dopo gara infatti il 50 avevo sbagliato la virata diciamo questa capacità di adattamento molto rapida una palestra esatto e mi serve molto per la velocità di base perché la vasca corta una vasca principalmente per velocisti insomma se pensiamo dieci mesi fa dovevi risolvere un problema fisico importante adesso le tue giuste preoccupazioni sono come affrontare un campionato europeo di corta come qualificarsi per un mondiale come corsarsi per un olimpiade insomma è un per uno sportivo è un bel messaggio è una bella situazione in cui si accende sempre riflettore sull'aspetto agonistico ma l'aspetto umano e l'aspetto delle preoccupazioni c'è stato quindi sa che che messaggio vorresti mandare magari a dei giovani che trovano degli intoppi trovano dei momenti di difficoltà magari non ne sanno uscire o non riescono questa è una bella domanda e ti ringrazio perché è un tema che mi sta molto a cuore perché mi ricordo anche quando ero io giovane o emergente no molto spesso si vede solo la punta dell'iceberg quindi il successo ed è facile affezionarsi e ammirare chi vince che vince sempre si porta sulle spalle la squadra però io fin da ragazzino ho sempre avuto un debole e ammirato forse anche di più chi dalle difficoltà riesce poi a riemergere o comunque a mostrare carattere grinta e non non molla mai no e non potevi essere tu quello che mollava esatto ho avuto tanti esempi appassionato di sport di grandi ex atleti nuotatori e non simbolo di questo di questo messaggio per i giovani e quindi è stato quasi un momento difficile sì ma dentro di me molto motivazionale perché da una difficoltà volevo dimostrare prima di tutto a me stesso di riuscire a uscirne più forte e motivato e così è stato perché poi io ai giovani e ragazzi dicono sempre che la carriera è lunga di un atleta professionista quindi non si può pensare sia tutta una scesa no ci sono sono un po le montagne russe alti e bassi impazienza di cui sei consapevole e lo sport in questo è davvero una metafora della vita perché vivi costantemente alti e bassi dovuti a tante situazioni diverse perché non bisogna dimenticarci che noi siamo atleti molto spesso lo sport tende a creare dei miti però siamo umani cioè sono persone normalissime io questo contatto anche coi ragazzi che mi seguono che mi iscrivono sui social tendo sempre a mantenerlo normale il più vicino possibile cioè non mi piace far percepire quel distacco che c'è tra utilizzazione esatto e cerco sempre di essere vicino ai giovani no perché mi ricordo anch'io le preoccupazioni e le ansie le paure e i dubbi che molto spesso vivano i giovani atleti per esempio io a livello assoluto mi sono affacciato ad alti livelli a 22 anni che guardandomi adesso ero molto giovane però mi ricordo a 22 anni o quasi mi sentivo in ritardo ed è sbagliata questa cosa perché ogni carriera è soggettiva ognuno ai suoi tempi di maturazione fisica e mentale fondamentale questo aspetto e conta tanto anche il contesto in cui cresci famiglia società amici percorso di studi insomma da che estrazione sociale vieni fuori e questo poi la formazione questo si chiama gli aspetti della del risultato esatto perché non c'è solo l'allenamento la prestazione non c'è solo l'allenamento talento appaticità c'è tutto un contesto di vita intorno e poi ti porta alla prestazione no quindi anche qui ai ragazzi che ci seguono dico sempre di non di non mollare di darsi tempo di crescere pazienza e di accettare gli alti e bassi della vita e dello sport perché alla fine lo sport una palestra ci prepara alla vita vera che sarà dopo no vita vera allora tu l'hai accennato prima che è stato un aiuto mentale quando hai avuto quel momento di cui sei stato male non potevi nuotare ma insomma tu ormai sono anni che sei un artista questa è la parola giusta hai un tuo sito importante che si chiama zazzart e di cosa ti occupi raccontaci questo aspetto della tua vita passione nata insieme al nuovo da piccolissimo già a cinque anni disegnavo ho fatto liceo artistico con anche lì appoggio dei miei genitori perché è importante comunque vedevano anche loro che aveva una grossa predisposizione e una sensibilità quindi sul disegno sulla pittura sul disegno si era sulle arti visive in generale foto video disegni pittura mi piace tutto ciò che è visuale e quindi liceo artistico poi breve parentesi fatto scienze motorie perché comunque mi interessava approfondire quella era la mia vita con due mondi e ora ripreso l'accademia nel percorso non ho mai tralasciato il diciamo il miglioramento personale quindi per almeno otto anni sono stato un artista autodidatta perché al liceo non avevo ancora quella maturità di affrontare l'arte e lo studio dell'arte per un mio posto per una mia possibile carriera mi era un classico liceale era un medio a scuola impegnavo il giusto perché ero molto più concentrato sul nuoto cioè mi piaceva tanto inseguire i miei sogni le mie ambizioni nel nuoto e quindi sono migliorato tanto da autodidatta quindi guardavo video su youtube cercavo artisti a cui ispirarmi e nel mentre sono iniziate le prime piccole soddisfazioni quindi collezionisti prima in italia e poi anche all'estero che compravano le mie prime opere mostre esposizioni la più importante per ora la biennale di arte contemporanea firenze ero l'artista italiano più giovane in mostra 22 anni che cosa hai portato lì portato un lavoro un pastello sul legno di tavola sul legno di due metri sul tema dell'eco sostenibilità ambientale e quella è stata una bella sfida ho ricevuto tante proposte d'acquisto però ho deciso di tenerlo quello e poi ora con gli studi invece sto approcciando all'arte più in maniera quasi imprenditoriale perché fare l'artista al giorno d'oggi essere un po un imprenditore di se stesso ovviamente senza tralasciare il fulcro è la passione e il volere esprimere quello che ho dentro infatti nel momento di stop ho iniziato tutta una serie di approfondimenti sulle piscine sull'acqua quindi sto facendo ho in mente di fare una mostra a tema proprio acqua piscine riflessi di luce nella vasca il momento di concentrazione prima di una gara di ciò che è tanto mio no e che vivo quotidianamente i sentimenti le sensazioni di un atleta professionista e cerco di mettere queste idee questa visione su tela su carta e devo dire con piacere che già sto ricevendo molto interesse su questa cosa perché comunque è un po insolito che un atleta abbia una sensibilità artistica per per quello che fa da agonista no e io la vedo proprio come un ponte tra le mie due carriere ovviamente per adesso dedico poco tempo all'arte perché sto vivendo i miei anni migliori nel nuoto quindi però non la tralascio mai cerco sempre di perché ti vedi un domani che questo mi piacerebbe tanto fatto iniziato l'accademia anche per iniziare a stringere a iniziare a fare networking quindi conoscere artisti le loro idee persone che ti potrebbero aiutare nel percorso poi da artista devo dare dimostrazione anche a a me stesso ma anche alle istituzioni e comunque essendo un atleta in vista io non nego che la mia figura d'atleti mi aiuti molto anche nella figura d'artista perché mi dà visibilità ovviamente sta a me creare qualcosa di valido però c'è la predisposizione anche da parte delle istituzioni nel voler organizzare qualcosa insieme però se dietro non ci fosse nulla poi si esatte probabilmente di base io sento questa pulsione io delle volte vivo un dualismo dentro di me che mi fa stare male mi fa soffrire perché ci sono dei momenti dell'anno in cui sono particolarmente ispirato vorrei veramente avere il tempo di creare di fingere che poi uno non ci non ci pensa ma di fingere è molto faticoso perché presuppone un lavoro mentale con una concentrazione di svuoto fare l'idea esatto esatto tutto sia un intreccio tutta una cosa e poi per fare l'artista ci vuole tanta disciplina ma non c'è più la c'è uno dice l'artista vabbè strasandato maledetti non è più così come dicevo l'artista moderno se uno vuole vivere di quello è un imprenditore di se stesso cioè si crea il suo prodotto la sua immagine che alla fine deve lavorare e ci devi lavorare sono tanti aspetti devi essere disciplinato in tutto e questo anche qui la carriera da sportivo mi aiuta tanto esserlo quindi c'è potrebbe stare le ore a parlare di questa cosa io personalmente ho un'idea da sempre e me la stai confermando che un la vedo dal punto di vista del dello sportivo del nuotatore affermato non può avere solo il nuoto come unico interesse come un rischio è un rischio è un rischio è un rischio perché se ti va male un periodo una gara un obiettivo ti va male il cento per cento della tua vita esatto vivi l'ultimatum direi oddio questa stagione se non forse avere ben gestita con le difficoltà della gestione mi rendo conto di una cosa così importante ben gestita è una non un rifugio mentale ma è uno supporto uno dell'altro supporta l'arte l'arte hai toccato un punto importante anche per la prevenzione alla depressione post carriera perché quanti atleti quando smettono non sanno più cosa fare la propria e non riescono a smettere e non riescono a smettere perché hanno proprio paura e vivono questa incertezza e sicuramente ci sarà per tutti perché il nuoto non bisogna negare è ed è stata una parte importantissima della nostra vita ci ha regalato momenti unici e per oltre 30 anni poi fa parte della nostra essenza però il costruirsi qualcosa al di fuori è importante sia per il dopo ma soprattutto per essere sereni ora mentre gareggiamo perché è un tema questo è stato molto approfondito negli ultimi anni con le difficoltà di piti di dress e vedi ma anche in altri sport vedi sempre di più atleti di vertici di vertice si appassionano ad altri rami della vita per esempio mi viene da pensare anche a il chalmers il centista australiano che lui ha la passione per i rettili quindi gli piace accudire i rettili e ultimamente per la parte piace del più la tua è però in australia più facile dato e anche per l'edilizia cui ora si mette un paio di settimane di giorni a settimana ad aiutare gli operai nei cantieri perché è un'attività che comunque la presa facesse casa formati poi noi atleti siamo strani è un pochino cioè ne vedi di tutti lo so però è la vostro è importante è importante dedicarsi a altro altre passioni altri scopi sia perché ti fa essere più completo come persona e sia perché appunto si aiuta a non sentirti nuoto dipendente a non vivere l'ultimato ea non percepirti di successo solo grazie al nuovo abito fondamentale questo aspetto io penso che sono dei messaggi sono solo un atleta maturo e intelligente può dare e devo dire che per fortuna queste generazioni sia la tua che non è più nuovissima ma se le nuove generazioni sono nella maggior parte dei casi danno questi messaggi c'è una maturità importante anche perché per essere una delle nazioni a livello mondiale ormai tra le più forti non può essere tutto casuale e non ci possono essere personaggi così banali ma soltanto personaggi importanti ci vuole impegno sacrificio però secondo me seguendo ti posso dire allora la parola sacrificio forse adesso ha una un'accezione quasi positiva quasi non è più il sacrificio come la sofferenza è sinonimo di risultato no è la negazione e la determinazione il sacrificio in questo senso che poi si è fatto anche col sorriso sulle labbra non 24 da giorno si usa la parola sacrificio per prendere io sono sacrificio non ho mai vissuto come accezione negativa del termine quindi come qualcosa di forzato sono cose nuotare e dipingere a me piacciono e quindi sacrifico del tempo che potrei dedicare peraltro per fare le cose che mi piacciono quindi un sacrificio positivo poi se uno estrapola la la radice della parola sacrificare vuol dire rendere sarò un qualcosa quindi non c'è niente di più sarò di di più bello e di più bello di raggiungere il proprio massimo cioè avere uno scopo di eccellenza nella vita in qualsiasi ambito che ti fa vivere appieno quella che è la tua esistenza quindi secondo me appunto hai fatto bene a sottolinearlo la parola sacrificio deve essere intesa più come un'accezione positiva del termine noi ringraziamo lorenzo zazzeri veramente è stato nato il pulvare particolare bello intenso e ci piace parlare di nuoto ma ci piace parlare di nuotatori di persone di vita e questo è la prima giornata del campionato italiano assoluto open freccia rossa di riccione 2023 appuntamento ai prossimi a te pulvare e alle prossime puntate grazie a riederci a tutti ciao